Enesimo furto nell'associazione AssoGioca, l'associazione gioventù cattolica, realtà da sempre nota a Napoli per il suo impegno nel sociale. Nelle prime ore della giornata, mentre i volontari erano intenti a organizzare la distribuzione dei panieri solidali, due donne di origini slave, bypassando ogni forma di controllo Covid, hanno fatto irruzione nei locali dell'associazione in via Sant'Eligio, mirando a sottrarre i beni già destinati alle famiglie in difficoltà. Le malintenzionate non sono entrate chiedendo aiuto, ma con il chiaro intento di creare caos e confusione. Come dalle immagini del sistema di videosorveglianza, si nota una delle due donne, intente a rovistare nei panni sull'appendiabiti all'ingresso, mentre l'altra voleva portare via alcune buste contenenti generi di prima necessità. Pochi minuti, ma sufficienti per far sì che uno dei volontari coinvolti nel triste accaduto si ritrovasse con 40 euro in meno. Il fondatore di AssoGioca, Gianfranco Wurzburg, rasporto e immediatamente denuncia e ai nostri microfoni racconta. Siamo dispiaciuti perché noi siamo disponibili con tutti sul territorio. Ieri questo episodio ci ha feriti. Vedere questa incursione con una certa violenza, per prendersi poi niente, si sono presi 40 euro, magari potevano anche chiedergli se avevano necessità, glielo avremmo dati. La cosa che fa male è vedere questa noncialanza di queste persone, che incuranti anche di persone anziane che stavano qui, dei nostri giovani volontari, hanno perpetrato un atto di violenza. Ci fa male e quindi noi chiediamo una maggiore presenza delle forze dell'ordine su questo territorio, che spesso e volentieri risulta essere abbandonato. È una situazione abbastanza grave. Ci sono dei nuovi poveri che sono quelli più silenziosi, con una grande dignità. Noi attualmente come associazione serviamo circa 350 famiglie, sia con consegne a domicilio che consegne presso la nostra associazione. Infatti c'è Diniti che c'è l'elenco lì con le famiglie che stanno venendo a ritirare. Diamo sia il paniere solidale con genere alimentari e anche altri tipi di sostegno.